Giorgina, sei pronta? Ci sono. Allora, aspetta, non sono pronta io. Dammi un attimo che mi devo andare a giustare un attimo il trucco che ho fatto un casino, arrivo subito, ok? Va bene. Ok, arrivo subito, dammo solo un secondo. Ok ragazzi, allora, molto molto importante. In realtà mi sono appena buttata su Discord e Giorgia non sa niente di quello che sta per succedere. Vi spiego brevemente. Proprio ieri Giorgia ha fatto uscire un video sul suo canale dove praticamente mi ha fatto incazzare come una iena, facendomi sclerare in mille modi differenti. Proprio ho sclerato tantissimo, proprio tantissimo. E quindi ho deciso io di vendicarmi, provare a vendicarmi. Devo cercare di essere una brava attrice, perché comunque potrebbe anche lei sgamarmi in qualche modo e capire che tipo voglio, tra virgolette, vendicarmi. Quindi lo scopo di oggi sarà farla incazzare per vendicarmi, ok? Quindi auguratemi buona fortuna, devo riuscirci, incrociamo le dita ragazzi e let's fucking go. Ok, ma scusami, eccomi qua. Possiamo partire? E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Allora, anche oggi siamo qui con un ospite specialissimo, sempre lei, sempre lei, la nostra nanerottola preferita, la signorina Georgina, saluta un po', dai. Eccola, eccola, ciao ragazzi, ciao a tutti belli miei, carichissima. Allora, tu in realtà non sai perché oggi sei qua, perché non lo sai, giusto? No, infatti ho abbastanza paura ogni volta che non mi dici le cose. Ok, ti posso dire una cosa che ti renderà felice, in realtà non devi avere paura di niente. Sai perché? Dimmi. Perché oggi faremo una partita normale, l'obiettivo sarà semplicemente vincerla, però mi piacerebbe a cuor mio cercare di arrivare alle 20 bombe, quindi vorrei che ci impegnassimo al 100% per cercare di arrivare a questo obiettivo, ok? Quindi roba tranquilla, video tranquillo, devo solamente sparare e non missare. Devi sparare, per favore non missare, non cadermi sempre a quattro zampe, come sempre voglio fare 20 bombe. L'obiettivo ragazzi è arrivare a 20 bombe. Prima di iniziare con il video ragazzi vi invito da subito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi ricordo che qui in descrizione trovate sia il canale di Giorgina che anche ovviamente i nostri canali Viola, perché noi tutti i giorni dalle 17 siamo in live, ok? Quindi vi aspettiamo anche solamente per un saluto. Dico bene Giorgina! Dici benissimo c***o! Oh, quindi ora non perdiamoci in chiacchiere che già mi hai rotto un po' le palle, andiamo a giocare. Andiamo. Buona visione. Ok Giorgina, are you ready? Sono prontissima, incazzatissima. Allora sbatti le mani sulla simonia per favore. No, vai andiamo a boschetto. Vai andiamo. Che in realtà, com'è che chiamavi tu boschetto? Com'era? Oh cavolo, no. Tu devi un nome a boschetto, stranissima. È vero! Allora, boschetto bisunto. No, vabbè veramente guarda. No, non mi ricordo. Tu te lo ricordi? No, era tua l'invenzione. Andiamo di qua, andiamo con questo palazzone. Sì, sono un po' corta. Dai vai lì, vai lì, ti prego vai lì. Eh ho capito, vado. Ok, vai là eh, mi raccomando. Ma dove che... Ah mamma, sono da sola! Eh ho sbagliato Pink, scusami. Perdonami signorina Giorgia, non era l'intenzione di sbagliare. Vabbè, ma non è vero. Io sto visto a fare se vinte girare però, vabbè. Ma cazzo no! In questo ha già mi terrolo. Ma se muori sei veramente una botta a pedali. Ma che cagari. Morti due? Madonna, sono troppo forte. Sì, va bene dai. C'è gente qua, eccolo qua. No, 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 no. È morto un altro? Morti due? Madonna ragazzi, ma sono un... Cioè, ecco... Vabbè, ma è easy 20 bomb allora così. Eh, dobbiamo fare 20 bomb. Io mi sto impegnando per quello, eh. Devo farmi il medikit un attimo. Sono one shot. Vai, fatti il medikit. Ok. Ti sembra dei vari lì? Eh, sì. Ok. Assist. Amò. Ah! Che? C'è qualcuno. Ma un lupo? È un lupo, eh. Amò! Hai rotto il ca... No, hai rotto il ca... Hai rotto il cazzo. Dai, famo adesso, testa di minchia. Dai, sono in macchina. Vuoi questo? Sì, è uguale, vai. Ma la faccio io, ma la faccio io. Eh, va... Ma se c'è il medikit... Ma ho capito, ma animalo prima! Che... Madonna! È la quinta... Sarà 20 volte che prova a farmi il medikit. Cioè, renditi conto. Va bene. No, vabbè. No. Amò. Amò, porco... Ti vengo a prendere. Dai, sali. Ma sì. Amò. Come cazzo sei? Ma sai? Ma se prendere la lettera E sulla tastiera... Ah, no! Ma... Allora, se passi sontana da me, come cazzo faccio? Scusa. No, vedi? Ci voleva molto a fare... Era un tasto, cioè, nel senso, cioè... Vai, andiamo sopra col canone, ci sei? Sì. Oh, cavolo! No, veloce, veloce! Come lo spacca? Ah, no! Niente... Sotto, sotto, sotto. Arrivo, 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 arrivo. Nocca ad uno. Bravissima. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Sono qui. Sono... Si sta portando via... Si è portato via il cadavere. Ah! Amò, amò, amò! Amò! Ma cosa fai lì? Dai, ma come cazzo... Ma... Cioè, come fa a essere un'occata così? Devi essere vero scarsa. No, vabbè. Amò, aspetta, devo andare a puscire quello là. Ma dove è andato? Ma via, con la macchina! Arriva un altro! Vuola! Amò, mi devi restare! Ma... Amò! No, intanto ne abbiamo già un sacco! Dai, ressa! Ok, ti lascio uno spray. Vai. Amò! Amò! Ma dimmi! Amò, non è... Che c'è? Ma non è restato! Ti svegli! Minchia, che cazzo c'hai? Sì! Porco di un cane! Oh! No! No! Ma no! Ma non vabbè a segnare! Manca fa così! Ma... Cioè, stai facendo un video serio? O mi stai facendo incazzare apposta? Amò? Che cazzo vuol dire, sapendo un video serio? Non lo so, perché mi stai facendo incazzare il... Amò, che cazzo fa questo? No, io sono one shot! Eh, io sono one shot! Eh, io sono morta! Morta perché non avevo shield! Aspetta, ma non accaduno! Vedi? Così si gioca! Eh, così si gioca! Guarda me! Guarda, vabbè, è assurdo! No, ragazzi, è assurdo! Go! Quanto godo! Quanto cazzo godo! Godo, stronza! Godo! Così impari, porco due! Impari! Oddio! C'è la cesta leggendaria! Amò! No! Amò! Amò dammi! Non ho neanche le cure! Amò! Amò! Non mi fa... Dai, amò, non mi fa rincazzare! Minchia! Dai, che palle! Vieni, faccio le splash! Ma... Amò! È one shot! È one shot! 31, 31, 31, 31! 46 white! Cazzo! E io sono one shot! Dai! Ho capito, cioè non fai un cazzo di danni! Ma porca troia! Ma cazzo, ma l'ho cracca tu! Ok, quanti danni hai fatto? Mi quanti danni hai fatto? Vai, dimmelo! 345! Eh, ce l'ho fatto io? Eh! 1100! Cristo addio, non fai un cazzo! Cazzo! Ah, sono due sentute a me! Non cado uno! Non cadi due! C'è! Gigi, gigi! Sto giocando da sola, Cristo Dio! Da sola! C'è il Madonna di Dio! Ma co... Eh! Vabbè! Ma non c'è tu! Ma mi fai fare le minchiate! Mo! Ma cazzo! Vabbè, porco... Veramente... C'ho il bot! C'ho... Va bene, triturami la f... Porca madre! Dio, Dio! Botti in merda! Ancora! Non gridare che è tardi! Non mi interessa, mo! Mi fa incazzare, sto coglione! No, devo andarmene, devo andarmene! Sono scesa, sono scesa! Mi vedi? Vai sulla! C'ho uno qua! C'ho uno qua! Ti devi svegliare! Gioca! No, 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 no! Vabbè, vabbè, vabbè! Amore, magari qui! No, andare contro il carro armato magari! Porco di un cane! Non marina, non marina! Sono andata... No, 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 no! Sono una botta, sono una botta! Non cado, non cado, non cado! Tranquillo, qui là! Di te, di te, di te! No, c'è un altro! Oddio! Amo! E letteralmente era lui che... Alla, dal, cioè, da guidare tutto dietro! Eh, non l'ho visto! Vabbè, vieni qua, dai, muoviti! Che palle sto game! Oddio santo! Amore, essami però! Aspetta, che mi devo curare! Se mi puscia l'infinità! Mi resti? Mi resti? Minchia, che se vengono qua e sono a terra sbrocco! C'è il cilla! Ma no, che cazzo è! Bello, vai tardi! Resta! Perché se non mi del pompa non ti resto! No, restami, muoviti, ma hai rubato tutto! Tò, tieni, tieni, bambina di merda! Resta! C'è la zipline, cristo addio! Shhh, shh, 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 zitta, zitta! Amo, ti giuro che se ora ti spara, ti giuro! Amo, perché non mai resa... Ti sto resaando? Amore, no, basta, vaffancoli, ho detto, mi hai rotto il cazzo. No, 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 ci! No, vai affancoli, hai rotto il cazzo! Io stasera non registro, ti dai una regolata, basta! Stop la registrazione! Amo, no! Fermi, ragazzi! La devo andare a recuperare! Fermi, 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 fermi! Amo, basta! Vai, dai, vieni qua! Vieni qua! Allora, dimmi che era uno scherzo, dimmi che era uno scherzo, perché ti giuro! Allora, vieni qua, vieni qua, allora! C'è un motivo a tutti! Siediti su di me! Ti sei arrabbiata? Perché è quitata? Dobbiamo fare la registrazione! Ma perché cazzo? Cioè, devemmo fare 20 kill con la... No, win! 20 kill! No, sì, 20 kill win! Volevo farlo, infatti per colpa tua ora il video non può più uscire! Amo, oddio santo Dio! Dai, dai, sto scherzando! Amo, cioè, veramente! Allora, mi sono voluta rivendicare perché tu hai fatto uscire un video... Ma infatti, ma infatti, te l'ho anche detto, no? Te l'ho anche chiesto, ho detto, magari mi dice di sì, no? Wow, facciamo l'aroma fake, vaffanculo! Però, cioè, mi sembrava che mi stessi rompendo il cazzo! Ho capito! Però, porco di, se mi dici, no, no, voglio fare le 20 kill, le dico, minchia, lei che traierdina! Scrivi bene! No, vabbè, no, allora, vole... Mi ha fatto salire l'esasperazione! Allora, volevo rivendicarmi, ragazzi, perché mi ha fatto veramente incazzare fortissimo nel suo video, mi sono veramente incazz... Se non avete il suo video, l'ho trovato in descrizione! Mi ha fatto veramente incazzare, quindi volevo rivendicarmi, però non era facile, credo che tu potevi anche sgamarmi! Ma infatti io ti ho sgamato, te l'ho chiesto due volte, ma dopo che mi dici, no, no, io, cioè, dico, ok, vuole fare quel video, non è che posso nella sua registrazione del video continuare a chiederglielo, alla fine è il suo video! Mi sono vendicata correttamente, cioè, è riuscita questa cosa, ce l'ho fatta! Godo! Godo, stronza! Guarda, è generoso, ti giuro, stasera non mangi niente, guarda! Va bene, va bene, no, no, no! Sembra che ci siamo riusciti, in realtà, ero un po' dubbiosa sulla riuscita di questo video, perché in realtà non volevo fare venti po', ma volevo semplicemente vendicarmi, e ci sono riuscita, a quanto pare, ti ho fatto un po' incazzare! Un po', ti giuro, cioè, già sono stanca! Dai, ridi un po' alla vita! Comunque, ragazzi, direi che ci siamo riusciti, mi sono vendicata con successo, quindi spero che questo video vi sia piaciuto! Sì, veramente, a questo punto, veramente, lasciate like, perché Cristo Dio! A vedere, ragazzi, lasciate un bel like, mi raccomando, fatevi messare a questo commento se vi è piaciuto questo video, direi vendetta raggiunta con successo! Dato ciò, ragazzi, dalla vostra grado, mi è tutto, noi ci becchiamo in un prossimo video, grazie per la partecipazione delle nostre venti bombe! Ci vediamo in un prossimo video, bella a tutti, ragazzi!